Salve ragazzi, sono Carlo Napodano. Anche oggi parliamo di un argomento molto interessante, e cioè il punto G. Esiste? Come lo possiamo trovare? È una leggenda? È un'area di elevata sensibilità erogena che si trova all'interno della vagina a 5-7 cm dall'entrata della cavità vaginale, dove appunto è racchiusa questa fantastica zona, chiamata anche CUV. Clitoro-uretro-vaginale. In pratica una zona che interessa il clitoride, l'uretra e la vagina. Il mitico luogo del piacere multiplo. Ma no, voglio che invidia. Che invidia che tengo, che invidia. Si tratta sostanzialmente di una concentrazione anormale di terminazioni nervose. Purtroppo non per tutte le donne è semplice riconoscere tale punto, sia per conformazione sia perché a volte le parti della cavità vaginale sono atrofiche, quindi si ha meno sensibilità e più difficoltà appunto a trovare questo punto erogeno che si chiama punto G. E anche se molti per conformazione dicono che non tutte le donne posseggono il punto G, credo che ognuna di voi dovrebbe provare a ricercarlo. Perché secondo alcune testimonianze di donne che hanno trovato, di donne e ragazze che hanno trovato il proprio punto G, descrivono la sensazione come molto più appagante, molto più piena rispetto all'orgasmo e alla stimolazione clitoridea. La cosa più interessante del punto G è che attraverso la simulazione di esso può avvenire anche il cosiddetto squirting, argomento di cui già abbiamo parlato varie volte, di fatti vi linko in descrizione i video. Vedete l'argomento perché è anche esso molto interessante. Tornando a noi, come troviamo il punto G? Come sempre ci facciamo aiutare dalla nostra Valentina Nappi. In pratica il punto G si trova, come abbiamo detto prima e abbiamo detto anche in alcuni dei nostri video, si trova all'interno della cavità vaginale a 5-7 cm dall'entrata nella parte superiore. Dunque, entrate dentro, andate verso l'alto e tirate il dito verso l'esterno. Palpeggiate quella zona. In pratica il punto G non è altro che una parte un po' spugnosa, un po' rugosa. Per farvi capire meglio la sensazione al tatto, potete prendere ad esempio una spugna con cui vi lavate, una classica spugna da bagno, la bagnate e passando con il dito sopra vi darà più o meno la stessa sensazione. Quindi per riconoscere la parte, provate a fare questo movimento sulla spugna, così magari quando poi procedete alla ricerca, se la trovate, la capite subito qual è. Ah, cosa molto importante, il punto G, quando la donna non è stimolata e non è eccitata, si nasconde in un avvallamento sempre all'interno della vagina. Quindi se procedete alla ricerca appunto dello stesso, assicuratevi che la vostra partner sia prima bagnata, cioè sia ben eccitata. Siamo arrivati, siamo arrivati. Dunque, come facciamo facilmente a ritrovare prima il punto G? Quindi si suppone, e cosa che comunque ho riscontrato, che attraverso la simulazione del clitoride c'è il rigonfiamento anche di quella parte. Quindi stimolando il clitoride avrete maggiore possibilità appunto di scovare il punto G. E come dico sempre, anche in questo caso, aiutarsi con dei sex toys non è una scelta sbagliata, anzi vi potrà aiutare a simulare la vostra partner, soprattutto se non siete tanto bravi con il sesso orale. Ah, a proposito, anche in questo caso ho fatto già un video dove appunto spiego come leccarla e vari consigli per fare eccitare la propria partner, quindi vi linko anche questo in descrizione. Se volete dare un'occhiata, è tutto, diciamo che sono tutti contenuti che fanno brodo, quindi che alla fine possono servire. Quindi stimolata la vostra partner, potrete, diciamo, andare a caccia di questo punto G. Come lo potete fare? Ovviamente, come vi ho detto, è all'interno della cavità vaginale, basta inarcare le due dita, ora che sia una sola o ne siano due, vabbè di solito si parte con due perché già si trovano partner abbastanza dilatate, procedete con due dita, inarcatele ed entrate all'interno della vagina. Stesso con, facendo questo movimento, inarcando queste dita, all'interno non lo potete vedere, ve lo faccio vedere all'esterno, fate questo movimento, entrate e pigiate così, lentamente, e cercate sempre di interessare l'aria non appena entrate, diciamo, come ho detto, a 5-7 cm dall'entrata della vagina. Non vi muovete da quell'area, perché il punto G non è che lo potete trovare in fondo, deve stare per forza lì. Quindi, arricciate le dita, inseritele all'interno e iniziate a fare una lieve pressione. Ovviamente, come dico sempre, cosa molto importante, la riuscita di questa caccia, diciamo che ha esiti positivi se ci confrontiamo con la nostra partner, cioè chiediamo sempre alla partner se al momento sta godendo, se le fa piacere il movimento, perché, vi ripeto, cercarlo da soli lo si può trovare. Può essere anche che lo troviamo, ma poi non piace, quindi è sempre preferibile avere un feedback dalla propria partner. Voi entrate, pigiate, quando sentite di trovare, che avete trovato sta parte spugnosa, chiedetelo alla partner. Io lo faccio sempre, l'ho sempre fatto, non ho mai avuto problemi nel farlo, anzi, ho avuto più riscontri positivi che negativi. Chiedete alla partner, diciamo, qua ti fa godere, godi di più di qua o di là, perché mi è capitato anche di trovare persone che, ad esempio, l'avevano sempre nella parete anteriore, però alcune un po' a sinistra, alcune al centro, alcune un po' più a destra. Quindi, voi pigiate sempre quella parte, cercate questo riconfiamento, questa parte rugosa, e chiedete il feedback alla vostra partner. Se stimolando quella parte delicatamente e avendo un feedback positivo dalla vostra partner, vuol dire che l'avete trovata e ci siete riusciti. Dopodiché, non vi resterà che far godere la vostra partner, finché o non squirterà o non raggiungerà l'orgasmo. Per oggi è tutto, spero che l'argomento vi sia piaciuto e che vi possa servire a far godere ancora di più la vostra partner. Non vi dimenticate di mettere un like e di condividere il video con tutti i vostri amici. Ah, e non dimenticate inoltre di cliccare sulla campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutti gli argomenti riguardanti il mondo del sesso e dei sex toys. Noi ci rivediamo nel mio prossimo video, perché il sesso è ovunque. Ciao!